Sono slittate in autunno a data da destinarsi le elezioni comunali 2021 che avrebbero dovuto portare al voto 134 comuni della regione Campania nel mese di maggio. Si voterà in 14 comuni con popolazione legale superiore alla soia dei 15.000 abitanti con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno. Ad essere chiamati al voto anche diversi comuni del Cilento e Vallo di Diano, come Altavilla, Silentina, Cannalonga, Castel San Lorenzo, Castellabate, Ceraso, Moio della Civitella, Monte San Giacomo, Monteforte Cilento, Montesano sulla Marcellana, Ogliastro Cilento, Orria, Padula, Perdifumo, Pollica, Praiano, Salerno, San Mauro Labruca, Santa Marina, Serramezzana, Sessa Cilento, Teggiano, Tortorella, Trentinara, Vallo della Lucania e Vibonati.